dal narcisista è semplice quando fai questo. Una delle cose che dobbiamo imparare a fare è imparare ad avere il distacco dal narcisista, distaccarci, avere il distacco dal risultato. In realtà il distacco dal risultato serve anche in tutte le situazioni tossiche, in tutte le relazioni tossiche, in tutte le relazioni dove non riesci ad avere, diciamo, differenze, in tutte le relazioni dove non riesci a... dove vivi dalla sofferenza, quindi il distacco dal risultato è importante. Bisogna smettere di avere paura di distaccarsi da una persona, bisogna smettere di avere paura di distaccarsi anche da una circostanza, da una credenza, perché il distacco può essere anche un lavoro narcisista, tra virgolette, che ti tiene vincolato. Quindi dobbiamo imparare l'arte del distacco dai risultati, imparare a distaccarci, imparare a distaccarci da tutte le persone negative, da tutte le persone tossiche, da tutte le persone che ci danno negatività, da tutte le persone che non ci danno piacere. Intanto, nel frattempo, iscriviti al canale, seguimi su TikTok, ovviamente su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, che sono sette, tra cui anche il nuovissimo canale di Sedura le donne con Massimo Terramasco, un canale che è utile anche agli uomini, però ovviamente per sedurre le donne, ma anche alle donne per evitare di farsi sedurre dalle persone sbagliate. Inoltre, mi raccomando, fai donazioni al canale, che sono sempre ben accette. Allora, quindi, dobbiamo, diciamo, la cosa fondamentale che dobbiamo fare per distaccarci è essere felici indipendentemente da una persona. Noi dobbiamo renderci conto che la felicità è, la felicità la dobbiamo trovare dentro di noi. Non dobbiamo restare attaccati ai nostri pensieri, perché spesso i pensieri ci condizionano e dobbiamo smettere di rimuginare, smettere di avere pensieri negativi, perché se noi entriamo in un circolo vizioso che ci terrà bloccati, ci terrà vincolati a una persona, dobbiamo renderci conto di un'altra cosa fondamentale, che è quella che sviluppare attaccamento a una persona significa sofferenza. Ma qualunque tipo di attaccamento genera sofferenza, non soltanto alle persone. Essere attaccati alle cose, essere attaccati alle persone, ovviamente, essere attaccati soprattutto a persone che ti trattano male. Questo è il non plus ultra della sofferenza. Quindi essere bisognosi, donna bisognosa, donna lagnosa, sono tutte situazioni che generano sofferenza. Avere bisogno dell'altro. Dobbiamo iniziare a diventare autoreferenziati, pensare a noi stessi, pensare a quello che ci fa piacere, ripetersi costantemente il mantra io sono la persona più importante del mondo. Io mi amo e mi accetto così come sono. E se tu non mi vuoi o se tu non fai quello che mi dà piacere, fuori dai coglioni! Questa è la cosa fondamentale. Levarsi dai coglioni le persone inutili, levarsi dai coglioni le persone inutili. E dobbiamo tenere che esiste una differenza tra piacere e felicità, perché uno può provare piacere ad esempio a bere, a uscire, però la felicità è un qualcosa che abbiamo dentro. possiamo provarla in tutte le circostanze, possiamo provarla in tutte le situazioni, perché la felicità è la gioia di vivere. Il fatto di essere indipendenti, o per meglio dire interdipendenti, con tutto il mondo, con tutte le persone che ci desiderano, l'interdipendenza è fondamentale. Quindi se noi riusciamo a fare questo, a immettere nel nostro sistema pensieri positivi, è fondamentale. Perché non dobbiamo neanche cercare di controllare le persone, di essere gelosi. Quando controlliamo creiamo resistenza. Bisogna accettare che le cose vadano come vadano e distaccandoci tranquillamente. crediamo che se controlliamo l'altro manteremo la felicità. È una falsa convinzione. La felicità la dobbiamo trovare indipendentemente dall'altra persona. E quando una persona non ci dà esattamente quello che noi vogliamo, semplicemente la mandiamo a fanculo! La mandiamo a fanculo e dentro di noi e ci facciamo proprio il funerale. No, andiamo a comprare, a prendere una fotografia, la mettiamo dentro una scatolina e ci facciamo il funerale. Così elaboriamo tranquillamente il lutto, la seppelliamo, ci facciamo il funerale. Ringrazio Claudia. E poi andiamo dal prete e gli facciamo dire messa. Mettiamo che si chiami Mario, il narcisista da cui ti vuoi distaccare. Una volta che tu gli hai fatto il funerale, cioè hai preso praticamente una foto, l'hai messa dentro una scatolina, l'hai seppellita da qualche parte. Poi magari puoi prendere due penne, ci fai una croce, una X e ce la pianti lì su una scatolina con un biglietto di carta dove metti fu Mario, è stato stronzo in vita e continua ad essere stronzo da morto, per dire, no? E seppellisci la cosa lì, poi vai dal prete e dici, senta, è morto il mio amico Mario, gli puoi dire una messa? E così poi vai a sentire la messa, vai a sentire la messa, il requiem che questa persona, che il prete dice per Mario, diciamo, no? E quindi tu gli hai fatto il funerale ed è un modo per levarselo dei coglioni fondamentalmente, mentalmente, per distaccare la mente. Quindi tieni presente poi che la felicità la devi vivere nel momento, qualunque cosa accada ci sarà sempre aria domani, ci sarà sempre, devi visualizzare te stessa, te stesso felice senza questo Mario, cioè questo Mario te lo devi togliere dei coglioni fondamentalmente. La regola che devi introiettare è abbandono tutte le persone negative, abbandono tutte le persone nocive, abbandono tutte le persone che non mi danno quello che voglio, le abbandono semplicemente, mi distacco. E ovviamente a maggior ragione bisogna distaccarsi dai narcisisti, bisogna distaccarsi dai manipolatori, bisogna distaccarsi da persone estremamente negative. Noi non dobbiamo avere degli attaccamenti, avere certezze, volere qualche cosa, pensare che se non hai quella cosa sei infelice, no, tu sei felice a prescindere. Lo stato d'animo interiorizzato deve essere quello della felicità. Se sei attaccato a una persona, a una cosa, a una situazione, sarai sicuramente infelice, sarai sicuramente infelice. Non devi cercare di cambiare le persone, ma non devi neanche farti cambiare dagli altri. Poi è ovvio che interagendosi cambia, noi siamo esseri interdipendenti, è ovvio che con l'interazione cambiamo sempre. Però è importante questo. Bisogna tornare anche alle cose semplici della vita, godere proprio la felicità con le cose semplici della vita, fare una passeggiata, guardare un film, staccare i pensieri, staccare la spina da tutte le persone nefaste, da tutte le persone negative, da tutte le persone che non ti danno quello che desideri. È molto importante questo perché è molto importante non avere, come dire, bisogno soprattutto del narcisista. Lasciarla andare. Più te ne libererai, più ti sentirai felice. Più ti sentirai libero, più ti sentirai libera, più ti sentirai felice. Tutto ti accapiterà. Ti capiteranno persone nuove, persone più interessanti e questo è veramente fondamentale. ti capiteranno persone piacevoli, ti capiteranno persone interessanti non appena ti sarai distaccato da questa persona estremamente negativa. È veramente un punto di forza che tu hai ed è facile, è facile come respirare perché è un procedimento naturale dentro di noi staccarci da persone nefaste, staccarci da persone negative. È veramente facile ma per farlo devi seguire queste indicazioni essendo centrato, centrata su te stessa e ripetendoti spesso io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Questa frase scrivitela su tutti i muri di casa, scrivitela nei post-it, ripetela in tanti momenti della giornata, io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Bene, per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Terramasco ufficiale, su TikTok e ovviamente su tutti i miei canali YouTube, tra cui il nuovissimo canale Sedura le donne con Massimo Terramasco. Bene, bene, quindi un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, fate donazioni al canale e al prossimo video. Ciao a tutti!